Sì, pronto? Pronto? Sì? Senti, volevo dire, per quanto riguarda Gesù di Nazareth, che dicevi che può essere anche lui un assassino, mi sembra che però lui non abbia mai parlato di uccidere nessuno, non vuole avere una memoria, vuoi che te lo dica? Ti dico dove lo trovi? Come dice così? Sì. Forse nel Vecchio Testamento non è nuovo, perché forse tu stai confondendo il concetto della filosofia cristiana dall'applicazione della Chiesa. Allora, io siccome qui non ho una Bibbia però il passo è la sua memoria, se vuoi prenderti nota e andare a verificartela. Sì. Allora, è Luca, l'episodio delle mine, l'ultima frase, e dice esattamente, ecco, portate i miei nemici davanti a me, quelli che non volevano che io dominassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza, o ammazzateli o scannateli a seconda come vuoi. Ed è in Luca. Va bene, andrò a vedere. Va bene. Comunque non si deve confondere quello che ha fatto la Chiesa con quello che è il cristianesimo, diciamo, allo stato puro, ecco, voluto da Gesù Cristo, secondo me. Anche se, indubbiamente, stai dicendo delle cose molto interessanti. Grazie. Grazie a te. Allora, io capisco benissimo, cioè, io capisco benissimo quelle persone che mi dicono, guarda, che secondo me il Gesù di Nazari ha detto cose diverse. Io questa, per esempio, quando io dico, leggo per esempio, amati i nemici, no? Tanti cristiani dicono, guarda che il Gesù di Nazari ha detto di amare i nemici. No, dico io, se tu leggi attentamente, c'è scritto, io dico a voi che mi ascoltate che dovete amare i vostri nemici. Ora, è una piccola sottigliezza, ma se uno dice, io dico a voi che mi ascoltate che dovete amare i vostri nemici, questo non dice che lui deve amare i nemici, ma gli altri devono amare i nemici. Ma se il pastore mi porta al macello, il mio nemico è il pastore. Questo deve essere chiaro. Poi riesco a capire benissimo quello che dice, ma mia varia preferito che il Gesù di Nazari dicesse di amare i nemici. Ma ricordatevi che i Vangeli sono stati scritti per delle operazioni politiche. Cioè, Matteo, Marco, Giovanni e Luca avevano in mente delle operazioni politiche. Non è che hanno scritto qualcosa che diceva questo qua che esiste, questo non è mai esistito. Hanno fatto delle operazioni politiche che dovevano dare delle indicazioni alla setta, o al gruppo di sette che stavano costruendo, per staccarle dal contesto. Allora, cosa dicevano? Siccome il capo setta doveva dire a quelli che lo seguivano, voi dovete amare i vostri nemici. E ognuno interpretava a modo loro. Ma il capo setta, quando lui staccava gli esseri umani dal contesto sociale, aveva un progetto ben preciso, la distruzione del sistema sociale, come dopo è avvenuto. Per cui stiamo attenti anche a dire che la Chiesa Cattolica non ha applicato i principi del cristianesimo. Secondo me la Chiesa Cattolica, quando sgozzava, quando ammazzava, quando alzava i roghi, non faceva altro che rispettare i principi del cristianesimo, del suo Dio e del Gesù di Nazareth. Non c'era assolutamente differenza. Quando Paolo esalta l'ignoranza perché sta per arrivare alla fine del mondo, lui pensa effettivamente, probabilmente, che arrivi alla fine del mondo, per cui non serve studiare, non serve ribellarsi al padrone, non serve chiedere giustizia, eccetera. Probabilmente lui questo lo crede e lo scrive, però dopo diventa dogma, cioè diventa un modulo comportamentale della Chiesa Cattolica che è stato dettato da Dio. Perché ricordiamo sempre che anche gli apostoli che ci appara la fiammea del Spirito Santo hanno avuto la dettatura di Dio. Per cui tutto quello che ha fatto la Chiesa Cattolica è in realtà ordine del macellare di Sodoma e Gomorra del pazzo di Nazareth. Qual è l'altra differenza? Qual è la differenza che c'è? La differenza è che dopo ci sono le lotte sociali, cioè le lotte sociali costringono la Chiesa Cattolica a mediare. Poi dopo, siccome nel cristianesimo troviamo qualunque cosa, possiamo fare l'una e l'altra cosa, cioè possiamo avere un comportamento buono, fra virgolette, o possiamo avere un comportamento duro e violento. Cioè la Chiesa Cattolica può prendere l'uno e l'altro a seconda di ciò che gli serve. che poi il pazzo di Nazareth, che uso il pazzo di Nazareth, il professore Baima Ballone ha scritto un libro parlando delle varie cose, un libro su cui io non sono d'accordo, cioè il suo scopo è quello di mostrare la storicità del Gesù di Nazareth attraverso l'episodio della sua passione. Cioè praticamente l'uno fa solo che prendere Luca, analizzare la sintomatologia della passione e dalla sintomatologia della passione lui dice effettivamente che quest'uomo è esistito. In realtà lui può dire solo una cosa, che Luca nel descrivere la passione, nel descrivere la sintomatologia fisiologica della passione, ha preso delle persone che hanno vissuto delle tensioni premorte. Cioè aveva esperienza di tensioni premorte. E quello che rileva sto medico patologo o quello che è, insomma, psichiatra, non so esattamente cos'era, dice che nell'orto di Gezzemani, preso da Luca, ci sono, Gesù manifesta, alcuni dei sedici sintomi tipici della sindrome da attacco di panico. Cioè, sto figlio del Dio padrone, sto figlio del Dio assoluto, quando è stato arrestato in Luca, manifesta degli elementi da attacco di panico. Stiamo parlando del figlio del creatore dell'universo, cioè non so se mi stiamo spazio, cioè non stiamo parlando di un uomo che si è stata caviglia, stiamo parlando del figlio del padrone dell'universo che sapeva che sarebbe stato arrestato, che sapeva che doveva morire, che sapeva che sarebbe risorto. Bene, sto qua manifesta tutta una serie di elementi propri dell'attacco di panico, che non indica una semplice stato di paura, in pratica era terrorizzato, secondo Luca, alla sudorazione, il desiderio di fuggire, la paura di morire, la caduta a terra e l'angoscia, si aggiungono perfino il sudore di sangue di cui parlano i Vangeli, che è anch'esso spiegabile, si tratta di una ematoidrosi dovuta a un totale coinvolgimento neurovegetativo. Per cui non sono solo io che dico che è il pazzo di Naser, che è un povero pazzo, che si credeva, che millantava di essere figlio di un Dio, ma anche un'analisi medica va a confermare questo. Tant'è, dice Baima Ballone, come l'imputato sotto stress, tende a dichiarare la sua visione dei fatti per riabilitarsi dalle false accuse e ricostruire il senso dell'autostima. Praticamente quando lui dice mi so il figlio di Dio, vi attimo ti vengo in senoccio, è un tentativo di ricostruire l'autostima. Scusami, io sono stato massacrato per due giorni di botte, a me mi hanno massacrato per due giorni, io non ho mai avuto necessità di dire mi so il figlio di Dio, tanto per essere molto chiari. insomma. Pertanto che questo Gesù di Naser fosse un povero pazzo, è un povero pazzo, indubbiamente. E purtroppo c'è la distruzione del sistema sociale proprio attraverso questo. E questo qua, se vi volete leggere l'articolo, lo trovate sulla Repubblica del 31 maggio 1999, cioè il 31 maggio, dieci giorni fa. Ed è un libro che ha scritto Baiba Bollone allo scopo di dimostrare la storicità del Gesù. Non per dimostrare che sei matto, come sto dicendo io, però per dimostrare la storicità ha dimostrato che è pazzo. O comunque la descrizione era quello di un uomo, insomma, ben instabile. Ben instabile. Se proprio non vogliamo usare il termine pazzo, forse i cattolici li può dare fastidio. Va bene. Detto questo, naturalmente io riesco a capire tutti i cristiani che mi dice, guarda, per me Gesù era diverso. Anche il mio amico Franco, per esempio Franco Cararo, dice che per lui Gesù era diverso da quello che dicono i preti. Lui per i preti mette dentro anche tutti i Vangeli ufficiali. Per cui ogni persona ha il diritto di pensare cose diverse. Quello che una persona non ha il diritto di fare è quello di vendere al sistema sociale delle menzogne. Cioè, non c'è un diritto di fare questo. Qual è la menzogna più grande? La menzogna più grande è dire che esista un Dio creatore. Questa è la menzogna più grande in assoluto. Perché? Perché significa togliere all'essere umano e l'essere umano in particolare la sua capacità di affrontare la vita, di organizzarsi, di compattarsi, di prendersi in mano la responsabilità della propria vita, di affrontare le contraddizioni, di costruire se stesso. Significa togliere all'essere umano l'immagine che esiste e che la vita non è altro che un continuo costruirsi, un continuo affrontare le contraddizioni, un continuo compattarsi. Togliere questo significa metterlo in cinocchio, significa trasformare l'energia in vita e stagnata, significa distruggerlo. Sì? Sono ancora Francesco da Vicenza. Quel che riguarda la passione di Cristo è un fatto storico senz'altro, però c'è molto da dire. Tu non hai rivelato il fatto sempre da Luca che negli ultimi istanti, prima di esalare l'ultimo respiro, ha detto pure Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato. Quindi quest'uomo, figlio di Dio, voluto sia l'ultimo essere uomo soprattutto per accogliere in sé tutte le sofferenze dell'umanità. Quindi anche il sudore in sangue era perché lui si sentiva soprattutto partecipi di questa sofferenza umana. Ma se io ti dico che non esiste Dio, che queste sono solo truffe. Può dare che siano truffe però, a modo tuo, a modo di pensare tuo. No, no, io sono andato a vedermene le cose, non sono soltanto andato a pensarle. Se io ti sto raccontando che sono andato all'inizio dello spazio del tempo, a vedere la formazione dell'universo, è chiaro che sono matto. Capisci? Ma per esempio, anche le dolci fiamelle della serata di Pentecoste in cui gli apostoli si pronunciavano in diverse lingue, è la manifestazione appunto di un'entità universale, è la manifestazione appunto del circuito universale. Ma è una bugia! Ma è una bugia! Ma non è una bugia! Tu non lo hai visto che loro si esprimevano in molte lingue. Io ti posso assicurare che io parlo con delle specie stranissime, ma in un mondo della percezione e dove non esiste la parola. Per cui tu puoi anche dirmi che sono matto, capisci? Sì, ma in Cristo noi dobbiamo vedere soprattutto un dialogo umano. Lui è venuto e sapeva già della sua sofferenza, perché gli era a base subito chiaro che il dialogo era stato molto futile. Qual è la sofferenza che ha avuto quest'uomo? Qual è la sofferenza che ha avuto quest'uomo? Guarda che la sua sofferenza non è stata neanche un millesimo, un millesimo, di quello che la Chiesa Cattolica infliggeva negli interrogatori, le streghe, neanche un millesimo. Parli dell'inquisizione e prima dell'inquisizione le persecuzioni, eccetera. Però bisogna andare anche al contesto di questi tempi. Io sono stato massacrato di botte per due giorni e non posso neanche dire di essere stato torturato. Questo praticamente non gli hanno fatto niente, sai. Ma questa è la tua superiorità, capisci? Tu devi far leva sulla tua superiorità. No, no, io faccio leva sulle sue mani, sulle loro forze di affrontare la vita. Capisci? Cioè, quello che voglio dirti io è che lui non ha avuto nessuna sofferenza. Nessuna. Questo è il... Lui ha avuto un processo giusto, cioè da quello che si legge sui Vangeli, ha avuto un giusto processo e ha avuto la giusta pena. Perché uno che dice che è il suo figlio di Dio, o te occupi o te metti in senocio. Tu difendi i farisei, ma i farisei erano i difensori della legge biblica, erano i tutori della legge biblica, come fai a difendere i farisei? I farisei erano, i farisei si chiamavano i puri, soltanto in Giovanni diventano a fianco dei paroni e dei sacerdoti, in realtà era una corrente di pensiero e basta. E' stato solo Giovanni... Sì, ma tu addirittura gli difesi dicendo che... Che non aveva ragione di condannare, di contrastare così il Cristo, insomma, il Gesù di Nazareth. Lui deve essere annientato, perché quell'immagine è un'immagine di morte che ha attraversato la storia. E questo è la cosa... Tu dici che anche tu sei radicalista, cioè pari di eliminazione... Io sono un integralista della libertà. Beh, anche Gesù era un integralista della libertà. Come no? Tant'è vero che l'ha confuso Pizzerotti in un certo tempo. Lui se n'è distanziato con intelligenza e sensibilità, perché lì era un non violento assoluto. Come no violento? E che ne dica giunca su qualche evento. La cacciata dei commercianti al Tempio, che cos'è? Non è un atto di violenza. E che ha detto qua, mi sommi il palo, non vi altri fuori dai bae. Scusa, non è un infamio questo. Ma senti un po'. Ti parli giusto che i suoi preti, con tutti gli errori, siano ancora pedofili? Ma era lui pedofilo, li ha insegnato lui? Ah, vedi che ti ho sganciato da questo. Gli l'hai insegnato lui? Ma guarda che la frase esatta dice, piuttosto che scandalizzate uno di questi piccoli che credono in me, non che li stuprate. Se tu vai da quei piccoli, la frase esatta dice, se tu vai da quei piccoli e gli dici, ma chi glielo fa fare a te di credere in questo matto, in quel momento lo stai scandalizzando. Non se tu lo stupri. Sì, se tenta di essere chiamato matto e pazzo di Nazareth da te, vuol dire che qualcosa di giusto dici anche tu, però tu investi troppo su una figura che per te è ancora inesistente. No, deve essere chiamata per ciò che è. Deve essere definita non per ciò che le persone vogliono che sia, ma per ciò che è. C'è un'infamia della vita. Dopodiché tu puoi difenderla sempre, perché se tu hai bisogno di avere questa figura che ti dà dei buoni insegnamenti, tu puoi difenderla, ma non puoi ingannare le persone dicendo che non è ciò che è stata. No, ma io non ho fatto il missionario, tu hai la tendenza a fare un po' il missionario nelle tutte le missioni. No. Io però dico che sono qualche uno del Maragon, come dice Franco, perché tutto mi dimostra che quell'uomo, oltre che un vero uomo, era senz'altro figlio di Dio, secondo me. Vedi, tu già ammetti l'esistenza di un Dio padrone, già ammetti che quello... No, 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 metto il Dio padrone, perché il Dio padrone gli ha fatto gli errori delle Chiese soprattutto, dei settarismi vari, dei dialoghi fasordi dico io, però che oggi la Chiesa Cattolica abbia un'influenza anche molto negativa nel campo politico per le sue menate e falsità e ipocrisie varie... La Chiesa Cattolica ha meno potere, perché il potere gli è stato levato via dal richieste di libertà della gente. Non mi porta a oscurare la figura di Gesù, semmai mi importa di dominarla di più. Deve essere annientata e messa esattamente là dov'è. Perché lui ha detto parole molto dure verso i poteri, anche attraverso la voce di San Paolo, ha avuto dei momenti durissimi verso tutti i poteri della terra. No, solo perché doveva appropriarsene. Cioè, lui voleva il potere degli altri, non perché voleva liberare le persone al potere. L'unico, come che dicono i testimoni di Dio, lui non ha mai fondato un sacerdozio. L'unico sacerdozio era Melchizedek, ma perché rappresentava lì stesso praticamente. Francesco, io la tua difesa la capisco, ma la tua difesa non legge due minuti. No, fa conto che difenda un pazzo? No, tu difendi un pazzo. Se uno proclamasse oggi quello che proclamava, lui lo metterebbe come minimo in manicomio. Francesco, tu non difendi un pazzo. Difendi il tuo sentire, il tuo credere. Questo difendi, non un pazzo. Perché se difendessi un pazzo, difenderesti tutti i pazzi. E infatti, io dico sempre, i matti sono quasi tutti fuori, dentro ci sono pochissimi. Comunque, verso gli alienati mentali, ho un certo senso di stima e fiducia. Visto che tra i termini i cervelloni agiscono in determinato modo, dico, fumo, fumo. Ma meglio preferire i cosiddetti matti, insomma, ecco. Va bene. Ma tu hai detto bene, è questione di sentire. Però anche io non riesco a trovare, nonostante il tuo atteggiamento inquisitorio, addirittura un po' come, non sei così crudele come che sono stati crudele certi sacerdoti, certi vescovi in altri tempi, purtroppo. Non hai, per la tua fortuna, quelle crudetà mentale. E quindi, anche tu hai un buon sentire. Però, ti ostini a rimanere dalle parti dell'anticristo. E l'anticristo, sappiamo chi è, non sei tu l'anticristo. L'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo ci circonda, va verso l'essere umano, le dice Coco. L'anticristo è la massoneria che ti comanda tutto il mondo. L'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo giunge agli esseri umani. ...che prendono stipendi da favola, quando che la media delle persone prende stipendi appena accettabili. Questo è l'anticristo, capisci? No. L'anticristo è l'America che vuole ergi senza salvare il mondo. Francesco, non fammi arrabbiare, non fammi arrabbiare. Tu hai un'immagine, sono fra i tuoi. Se vieni da me, a telefoni a me, l'anticristo è quello che dico io. Se poi tu dici che l'anticristo è un'altra cosa, va bene, è quella la tua idea. Ma se parli con me, siccome io sono un guardiano dell'anticristo, l'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda giunge all'essere umano. Questo è l'anticristo. Tutto il resto cancelliamolo. Questa fa parte della fraseologia del modo di dire e di pensare, ma... No, 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 gli dei, gli dei del mondo che ci circondano. La tua è una concezione, non è un'idea. No, no, è una cosa fisica. Non costruisci niente in questo. Tu confermi nella concezione che hai della cristianità, purtroppo ti do atto. Va bene, Francesco. Che avertela un po' su quella cristianità hai ragione. Francesco, onore delle armi, va bene? Come? Onore delle armi. Buona, ciao, scusa, ciao. Ciao, grazie a te invece. Sì, pronto? Ciao, sono Simonetta di Rosà. Ciao Simonetta, dimmi. Ciao, senti tu prima parlavi che sei stato praticamente all'inizio dei tempi, no? Sì. Ecco, a me interessava sapere, tu sei entrato in questa dimensione, cioè ti capita così di punto in bianco durante la giornata? No, bisogna. Tramite meditazione? Allora, se tu hai seguito un attimino, ho parlato del crogiolo dello stregone. Eh, che non riesco sempre a seguire tutto il... Bene, necologio dello stregone, comunque non è importante, basta, necologio dello stregone sono definite, non insegnate, definite tutte le tecniche che si usano per alterare la percezione. Sì, però io preferisco quando tu spieghi le cose che non quando le leggi, perché sei talmente veloce, per seguirti bisognerebbe essere proprio full, hai capito? Sì, sì, non ho mai ragione, sai. Non perdere neanche una virgola. Hai ragione, Simoletta. Infatti io... E quindi preferisco farti la domanda diretta, niente, allora... No, no, ti rispondo... Ecco, cioè, hai mai fatto tipo ipnosi regressive? No, no. In questa dimensione ti stai poco, hai bisogno di un ambiente particolare, ci resti per un tot di tempo? Cioè, tutte queste nozioni qua, se me le puoi fornire... Sì, 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 le fornisco subito per radio. D'accordo. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, la percezione alterata. Percezione alterata significa andare fuori di testa. Andare fuori di testa significa perdere la cognizione di quello che è il mondo che ci circonda, di com'è la descrizione del mondo. Com'è che ottengo io questo? Cioè, andare fuori di testa... Ricordatevi che la pratica è andare fuori di testa, alla fine uno va fuori di testa completamente, se non ha disciplina sufficiente. L'importante è avere disciplina. La disciplina è la capacità di sapere, in questo momento io vivo nella descrizione. In questo momento io parlo con voi e vi spiego le cose attraverso le parole. Ma le parole non significano tutto quello che io vorrei dirvi, perché non ci sono parole per dirle, però io comunque devo riuscire ad usare una quantità di parole tali per spiegarvi, perché vivo in questo mondo, vivo in un mondo della forma, in un mondo delle parole, in un mondo dei numeri e devo affrontare il mondo in questo modo. diverso è il mondo della percezione alterata. Cosa significa? Significa che chiudo tutti i sensi, cioè la percezione del mondo che mi sta attorno si chiude e altero la percezione. C'è un solo sistema per alterare la percezione che non sia pericoloso, ed è il sognare. Cioè, nel sognare si può fare pratica di sogno, si può riuscire a costringere il sognare per viaggiare. Cioè, anziché semplicemente dormire e sognare, si può con l'autodisciplina, con l'allenamento, e qualcuno magari è anche dotato, dal primo passo che è quello trovarsi le mani in sogno che vi ho detto, cioè ti costringe a guardarti le mani e dire io sto sognando, e da lì cominci a muoverti in maniera diversa, con tutta la pratica che ne va avanti e là ti sposti. Ora, il sognare, la pratica del sognare, cioè essere coscienti del sognare, cioè solo il primo passo. In realtà esiste tanti stadi che però si esprimono tutti all'interno del sognare. Quando io sono andato all'inizio dello spazio del tempo, mi sono trovato sospeso nel buio davanti a un globo giallo, io stavo sognando, io sapevo che stavo sognando, ma ero in un momento della percezione che non era del sogno, quando io mi sdoppio e cammino per casa, o mi muovo per casa, o vado fuori per Marghera. Per cui sono due stadi diversi della percezione, però sono due stadi diversi del sognare. In alcuni casi c'è controllo, c'è un maggior controllo, cioè nel senso che posso pensare di fare quella cosa, in altri casi invece non c'è assolutamente il controllo, ma è come se la ragione fosse spettatrice di quello che succede, cioè si trovi in situazioni assurde dove se pensi non capisci più niente. E puoi viaggiare sia avanti e indietro nel tempo e sia nello spazio. Il problema è che non è uno strumento, io inizialmente quando cercavo questo strumento cercavo un'arma, cercavo qualcosa per agire nel mondo della ragione. In realtà non c'è questo controllo, cioè non è che io posso andare dentro e sapere la combinazione della casaforte della banca. Perché? Perché i bisogni che mi spingono all'interno del sogno, all'interno dei vari stadi del sognare, sono diversi dai bisogni della ragione. Cioè mentre adesso mi daria bene che vinse, non so, super in all'otto e vinse al 30 miliardi, quando sto sognando quei bisogni decrescono e ne sorgono degli altri bisogni. Sono i bisogni propri del corpo luminoso, i bisogni della percezione, i bisogni di un mio più profondo o diverso, neanche più, diciamo diverso. Per cui lo si usa in maniera diversa. Solo che il sognare diventa un modo per agire, cioè diventano dei mondi della percezione in cui si agiscono. Cosa significa questo? Questo significa che hai una quantità di fenomeni su cui costruire il giudizio. Cioè costruisci il giudizio in base a dei fenomeni diversi. Dopodiché quando fai questo puoi trovarlo anche nella vita di tutti i giorni, cioè gli dei li puoi trovare anche nella vita di tutti i giorni con una leggera percezione alterata, un pelo, pena, pena, pena. Pronto? Ciao Gian Paolo. Ciao Paolo. Mi piace moltissimo quando parli fuori di testa perché parlo sempre di queste cose molto semplici e elementari. Io vivo con i piedi per terra perché non riesco ad assumere altri atteggiamenti, purtroppo i miei limiti sono questi. Però mi piace moltissimo e riesco a comprendere quando tu dici attenti di non andare fuori di testa. Quindi cose semplici, chiare che si tocchino. Galileo Galilei volevano bruciarlo perché? Perché era semplice, diceva quando un fenomeno non riesci a dei dubbi, ripetilo. Se è ripetibile è tangibile, è concreto, è semplice, è chiaro. Però evidentemente a certe persone le cose chiare e semplici non piacciono perché purtroppo noi abbiamo l'illusione, dobbiamo avere sempre l'illusione che di là c'è qualcosa che ti aspetta. È quello che è, voce del verbo essere, basta. Ho un altro da dire Claudio, mi piace veramente quando parli di non andare fuori di testa. Grazie Claudio. Ciao, ciao. E comunque c'è un'altra cosa da dire. La vita di tutti i giorni va affrontata per quello che è. Non si può affrontare il sognare, affrontare i stadi di percezione alterata se ci si illude che le cose siano diverse da ciò che sono. Cioè un albero è un albero. Quello che mangio è quello che mangio. La vita che faccio di tutti i giorni sono la mia capacità di stringere i pugni e i denti nella vita di tutti i giorni. Se io mi metto a pregare aspettando qualcuno, è venuto che io mi metta a praticare il sognare o praticare percezione alterata. Avrò al massimo quel sbuffo di vedere la Madonna e mettere in ginocchio qualcuno. O magari farò come quelle persone che sanno che gli sta per succedere qualcosa, cioè hanno la capacità di percepire un movimento di qualcosa, di qualunque cosa e anziché dire io ho percepito quel movimento, ho percepito quella cosa, è venuto padre Pio e mi ha detto che tu hai quella malattia, è venuto padre Pio e mi ha detto che sono stato bene. Bene, questa necessità di rivestire la propria percezione, la propria capacità di espandersi con un'immagine divina è dovuta al condizionamento educazionale che si ha nella vita di tutti i giorni. Perché per esempio l'ospedale psichiatrico di Gesù Saem è pieno di musulmani che vedono Maumetto, cristiani che vedono Gesù e ebrei che vedono un mosee. Pronto? Sì? Ecco, avete sentito un esempio di dialettica cristiana, cioè da questo a bruciare le persone non esiste nessuna differenza, cioè questo personaggio, quello che lui ha espresso in questa trasmissione, è esattamente il suo piacere di bruciare le persone. Sì, pronto? Sei solo un buffone. Eccolo qua, guarda. E erano in tanti, quando linciavano le donne che non si potevano difendere, erano in tanti che andavano ad approdurire, a dargli fuoco, a portare la legna per bruciarli, non c'era soltanto l'inquisitore che gli bruciava le mani, che gli strappava la lingua, erano anche la guardia che assisteva, erano le guardie, erano appunto queste persone. E queste persone hanno bisogno della morte, perché la morte è l'unica condizione a quale possono esistere. Pronto? Pronto Claudio. Ciao, dimmi. Ciao, come stai? Bene, bene. Vorrei sentirti un po' più vicino, ti sento molto lontano. Mi senti lontano? Ecco, ascolta Claudio, nella trasmissione scorsa, parlavi, quando parlavi degli oracoli caldaici, a un certo punto tu esprimi questo pensiero, la ragione, l'organizzazione sociale, eccetera, è sempre stata donna. L'uomo ha sempre variato qualsiasi cosa. Poi dici che parli sulle indicazioni che il Cristo di Nazare ha dato alla chiesa, cioè rubare l'obolo alla vedova. Cioè bisogna riuscire a portare via l'obolo alla vedova, perché lei deve stare in miseria e supplicare, eccetera, eccetera, per avere un minimo di carità. Massa di manovra, sì. Un minimo vitale per riuscire a sopravvivere. Ecco, io vorrei, per cortesia Claudio, se tu volevi un po' approfondire, un po' queste due, chiarire un po' di più queste due cose che... Concetti? Va bene. Inoltre, guarda, ti sento malissimo, io adesso faccio tutto il discorso e poi metto giù. Va bene. Inoltre complimenti, interessantissima quella risposta delle 19, quella risposta che tu hai dato a Luciano della Guizza, mi pare. A Luciano, sì, sì, sì. Molto, molto interessante. Ecco, adesso metto giù e ti ascolto e ti ringrazio. Vabbè, grazie a te. Eh, cosa? Subito ti rispondo, subito. Eh, prendo un'altra telefonata e puoi chiudere le telefonate. Sì, metto giù. D'accordo. Sì, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Pronto. Dimmi. Buongiorno, sono Alessandro. Va bene, dimmi tutto Alessandro, presto però. Sì, signor, la facciamo prestissimo. A voi ciò domandare, mi ho sempre stato convinto che io sia un prete e non mi eravamo mai nessuno la testa e adesso mi sono reso conto che io era praticamente un prete, ma a me voglio, appunto per questo, fare una domanda. domandare come mai che l'avvento del cristianesimo gli ha fatto sterilizzare la nostra gente al punto tale del giù nel San Bramanco, insomma, scomparire la faccia della terra praticamente. E voglio sapere come mai che su Cristo, su Madonna, su Santi e su Vangelo, non voglio rimediare al fatto che la donna non è una battaglia, non è una famiglia, non è una continuazione, non è un focoare, non è una ricerca, una ricerca. Dunque, caro sacerdote, cerca di rispondere a me, se ti ti contribuisce a sterilizzare questo mondo, vedo più. Sì. Quanti? Una. Quindi lo devo fare. Ciao. Ciao. Bene, non prendo più telefonate, anche perché ormai siamo quasi alla fine della trasmissione, scusate un attimo, aspettiamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì. Senta, la settimana scusa mi hai fatto vedere dei programmi dei guerri a Papa Giovanni, Papa Buono, che non che mai credo all'estimate di Padre Pio. È vero. È vero. Non si sono mai incontrati. È vero. Non si sono mai parlati e allora sempre nega per questa cosa. Allora mi ho detto, se per caso non c'è la televisione, sta roba mi non sapeva. È vero. Quanto che ne hai parlato di questo Padre Pio, miracoli, miracoli, miracoli. Però sta roba qua, mi hai fatto vedere il Padre Pio, ma nessuno, tutti quei che ha fatto sta festa grande. Non mi hai mai detto, guarda che sto Papa, non mi hai mai creduto all'estimate di... Allora, fai santo, fai santo il Papa o Padre Pio? Non mi hai mai visto incontrarlo, non mi hai mai visto, però questo è diventato Beato. È l'altro perché tutti io amiamo, tutti io amiamo ancora sto Papa. Io amiamo tanto bene, tanto fa Padre Pio, penso. Qui io avevo già fatto Beato e questo invece è ancora da farlo. Forse se sarà qualche miracolo io farò ancora. Però un Papa molto intelligente, molto buono, ben voluto, forse più di Papa, Padre Pio, non si sta, ne ancora beatifica, oppure porta avanti. Ma di questa roba non mi hai mai creduto. Dunque ci sarà qualcosa allora. Buongiorno. Buongiorno. Io non commento le cose intende alla Chiesa. Certo che fa ridere due persone che fanno tutte e due santi, uno che dava all'altro del buffone. Va bene. Allora rispondo un attimino all'amica che ha telefonato. Non prendo più telefonate fino alla fine. Allora perché è la mente donna, la mente del sistema sociale, la mente della vita. Perché noi altri vivemo in un sistema sociale che è all'interno della natura. Cioè è vero che noi viviamo in un sistema sociale fatto in un certo modo, per cui dominato dall'uomo, almeno così si dice apparentemente. Però questo sistema sociale in cui noi viviamo è all'interno dell'essere natura. E l'essere natura ha l'essere centrale e l'essere femminile. Se voi guardate gli uccelli della natura, cioè l'uccello femmina ha sempre meno colori, è sempre meno appariscente che non l'uccello maschio. Perché questo? Perché la stabilità della specie è data dalla femmina. Cioè è la femmina che riproduce la specie, che cura i piccoli e che porta avanti la specie. Mentre invece l'uccello maschio è quello che quando arriva il predatore è il primo a essere mangiato. Per cui l'essere maschio, tutto sommato, è una condizione secondaria all'interno della natura. Potremmo tranquillamente dire che l'essere maschio è un altro che una donna mancata. Cosa succede? Succede che una donna mancata, che ne si è tante, cioè tanti maschi in realtà non sono maschi in assoluto. Nel senso che dal punto di vista magico l'essere maschile è quello che introduce delle variabili. Cioè mentre la stabilità del sistema sociale, la costruzione del sistema sociale, l'amministrazione del sistema sociale, la vita del sistema sociale, la riproduzione dello stesso, è un ente femminile, cioè fa parte proprio delle prerogative dell'essere femminile, le variazioni del sistema sociale dovrebbero essere parte del potere maschile. Cioè praticamente i salti qualitativi all'interno del sistema sociale dovrebbero essere un contributo maschile. Purtroppo questo non è. Perché? Perché il condizionamento educazionale, ricorda che non rispondo più alle telefonate, il condizionamento educazionale ha storpiato in maniera talmente violenta i rapporti all'interno del fra uomo e donna che ha distrutto quelli che sono i comportamenti naturali. Comunque in ogni caso è sempre l'essere umano femminile che è l'elemento che conduce la sopravvivenza e che porta avanti la vita. Cioè è l'essere umano femminile che si carica ai fioi e che scampa. È l'essere umano femminile che quando arriva a guerra cerca di proteggere il futuro, di proteggere i bambini, cioè di solito l'essere umano maschile o scappa o cerca altre robe o va a fare la guerra. Per cui la conservazione di un sistema sociale è quasi sempre demandata alle donne. E questo perché la donna ha la capacità di costruire il futuro, di vedere il futuro che gli viene incontro. Anche per questo i cattolici che ne aveva paura. Perché l'essere umano femminile è che faceva paura proprio perché aveva la capacità di costruire il sistema sociale. Dall'orrore portarlo fuori dall'orrore. La variazione, i salti qualitativi, che non c'è i salti tipo la lotta sociale, cioè mentre c'è le donne che fanno partire la rivoluzione francese in cerca della libertà, l'essere umano maschile gavaria il compito di portare dei salti mentali qualitativi diversi. Questo non avviene perché neanche gli esseri umani maschili sanno cosa fare. Troviamo una tradizione del genere nella Vicca, in tutte le tradizioni pagane, dove c'è il caprone con le sacerdotesse. Cioè il caprone varia quello che è la vita, il demonio, il caprone, daoimos, il dio maschio, varia la vita, mentre invece la conservazione della vita, la perpetuazione della vita è femminile. Per cui la rivoluzione francese è femminile, la rivoluzione bolshevica è femminile, la lotta di classe è femminile. Quello che dovrebbe essere stato un ruolo maschile non c'è stato. Mi spiace, infatti, molto a dirglielo a tanti maschietti, sono comportati molto più da quello che erano femminili, cioè da un cervello femminile, che non da quello che è il ruolo maschile. D'altronde il ruolo maschile viene fuori una volta in un secolo, due secoli, insomma, non di più. Per quanto riguarda il cervello, non è il cervello femminile del cervello di chi ha la figa, o il cervello di chi ha il cazzo. Maschile e femminile in magia si intende un'altra cosa, si intende la capacità di vedere il mondo. Non è avere cazzo e figa, significa avere la conservazione, la riproduzione della natura è una cosa. E i salti qualitativi che abbiamo avuto da quando siamo usciti dal brodo primordiale fino ad oggi, nel cambiare le condizioni all'interno del quale progredire, quello dovrebbe essere una prerogativa maschile. Beh, i maschietti hanno molto deluso, in effetti, sì. Per quanto riguarda l'ordine di rubare l'obro alla vedova, è un ordine che si dà a livello di... Ricorda che non prendo telefonate, non prendo più telefonate, finché non ho finito, anzi, forse neanche dopo. L'ordine di rubare l'obro alla vedova è un ordine che è un dogma dottrinale. Se voi vedete, anche per la Bosnia, cioè, no, scusate, per la Jugoslavia, no, per i profili di quella regione Jugoslava, adesso non mi ricordo più come si chiama, hanno chiesto le 10.000, le 50.000, le 100.000 lire e hanno raccolto qualche decina di miliardi in un bilancio statale dove ci sono centinaia di miliardi, cioè centinaia di miliardi che girano. Cioè questa necessità di manipolare e manipolare l'emotività delle persone dicendo facciamo qualcosa per quei poveretti e si inchioda su quella forma l'attenzione delle persone. Importante è costringere il povero a emozionarsi per la miseria dell'altro e costringerlo a rinunciare a una parte dei suoi veri anziché diventare ricco. Cioè fa paura un povero che cerca di diventare ricco o che cerca di superare il proprio malessere, la propria miseria, che non un povero, piuttosto un povero che si stia piangendo per gli altri poveri che magari raccolga le lemosine per altri poveri. Ed è un ordine dottrinale che è stato fatto proprio dalla Chiesa Cattolica. Cioè rubare l'obolo alla vedova. È un concetto che fa parte degli ordini del pazzo di Nazareth ed è un comportamento dottrinale. Cioè chiedere le lemosine. Magari bastonare quello che chiede le lemosine davanti alla Chiesa perché osa chiedere le lemosine e sottrarre le lemosine alla Chiesa. Ma costringere il povero a dare i soldi alla Chiesa e lui elemosinare alla Chiesa. Cioè diventare dipendente dalla Chiesa, dipendente da un padrone, dipendente da qualcuno. E questo è una struttura dogmatica. Bene. Va bene. Sei pronto? Pronto? Per cui ricordatevi sempre questo rubare l'obolo alla vedova. È un modo di dire che è preso da una parabola ben precisa. Lui che esalta la vedova che dà l'obolo. Cioè si toglie praticamente il pane di bocca per darlo al Tempio ed è una direttiva che lui dà alle persone. Bene. Questa direttiva la Chiesa Cattolica l'ha sempre applicata per portare via il pane della bocca ai poveri. Io vi ringrazio. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Questa è la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19. Scusate un attimo. Bene. Ci risentiamo alle ore 19 con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Vi parlerò delle condizioni che portano le condizioni per essere pagani e prendersi stragoni. Grazie per l'ascolto e a risentirci a questa sera alle ore 19.